Hai perso il treno? Sicuramente o quasi? Te lo dico perché questo segmento di investimento è molto spesso, se non quasi sempre, completamente snobato. È la motivazione principale che è poco eccitante. Ma se ti dicessi che anche il mitico Warren Buffett è in questo business che ha una di queste aziende in portafoglio, anzi se ti aggiungessi che è la seconda più grande acquisizione di sempre di Berkshire Hathaway e distribuiscono anche tanti bei i suoi corsi dividetti. Seguimi fino alla fine di questo video per sapere di cosa parlo. Abbiamo passato le scorse settimane a parlare di portafogli ideali, sia di soli ETF che di un mix di ETF stessi ed azioni. A quel punto mi sono venute in mente le parole di Warren Buffett che diceva che investire, per essere profittevole, deve essere noioso e le 5 aziende di cui ti vado a parlare oggi, 3 americane e 2 canadesi fanno parte di un segmento di mercato di un business tremendamente noioso, ma assolutamente indispensabile. Eppure essendo estremamente noioso negli ultimi 20 anni i backtest che ho fatto, quindi dal 2003 al 2023, con l'SP500 come termine di paragone, che ha un lordo generato in questo periodo di circa il 10% di cable abbondante anno, queste 5 aziende hanno generato tutte quante una sovra performance. Per quelle americane qualcuno oltre il 18% e per quelle quadraresi anche oltre il 17%. Ora venitemi pure a dire che i rendimenti passati non sono lo specchio degli rendimenti futuri, però a mio parere mi sembra un ottimo punto di partenza per approfondire, no? Che dite? Questo sarà un video molto veloce e descrittivo per quanto riguarda le azioni, ma andremo a vedere anche dei numeri di approfondimento, però se volete un approfondimento specifico su uno o più di queste aziende, per favore fatemelo sapere nei commenti qui sotto che ci faccio un video dedicato appositamente e mi fa molto piacere. Lo faccio con piacere perché ricordo che questi sono solo spunti per scopo didattico e di approfondimento e ovviamente non sono consigli di investimento. Partiamo prima di tutto dalle società americane, USA, Union Pacific Corporation, una delle principali compagnie ferriari degli Stati Uniti d'America che è seduta in Omaha, nel Nebraska, dove è nato Warren Buffett. Adesso capite di che settore stiamo parlando. Giustizia una vasta rete forderearia che si stende per circa 32.000 miglia in 23 stati occidentali degli Stati Uniti d'America. Union Pacific si concentra principalmente sul trasporto ferroviario di merci, inclusi prodotti agricoli, carbone, minerali, prodotti chimici, combustibili, automobili e merci industriali. Negli ultimi 20 anni ha realizzato un cargo di quasi 16% annuo. La seconda è CSX Corporation, che è un'altra importante compagnia ferroviare degli Stati Uniti d'America che ha sede a Jacksonville in Florida. La sua rete si estende per 21.000 miglia in 23 stati dell'est e nel Midwest degli Stati Uniti d'America. Come core business, l'azienda si concentra principalmente sul trasporto di merci, fra cui anche questa, carbone, chimica, prodotti agricoli, minerali, automobili e merci intermodali. Offre il trasbitto di trasporto di tipo integrato, compreso a treni merci regolari, servizi intermodali e soluzioni logistiche integrate. Negli ultimi 20 anni questa è quella che ha adesso il più di tutto delle altre. Il 18.2% di cargo è annualizzato. Ovviamente questa non significa che sarà il rendimento nel futuro, ma è bene menzionarlo. La terza azienda americana è Norfolk Southern Corporation. Anche questa una delle principali aziende americane, che ha sede appunto a Norfolk in Virginia e gestisce una rete ferroviare di oltre 19.500 miglia in 22 stati dell'est, del Midwest e del sud degli Stati Uniti d'America. Questa è specializzata come le altre due nel trasporto di merci, fra cui carbone, prodotti chimici, prodotti agricoli, materiali di costruzione e merci intermodali. Per quanto riguarda Norfolk, negli ultimi 20 anni ha realizzato un cargo di quasi il 15% generalizzato. Ora che ci siamo fatti gli Stati Uniti d'America, perché non andiamo a vedere anche quelli canadesi, quelle aziende che magari pochi considerano perché non si trovano negli USA, ma che offrono comunque rendimenti perché il Canada sta pur sempre in Nord America? Lo sapevi? Canadian National Railway Company è una delle principali compagnie ferroviarie canadesi, gestisce una vastissima rete ferroviaria e si estende per 832.000 km, comprendo sia il Canada che alcune parti degli Stati Uniti d'America. Come per le altre, queste offre un servizio di trasporti per merci, prodotti agricoli, carbone, minerali, chimica, container intermodali e carichi generici. Fornisce anche servizi logistici di trasporto su strada all'integrazione del trasporto ferroviario. Negli ultimi 20 anni ha realizzato un cargo del caso 15% su base anno. Chiudiamo con Canadian Pacific National City Railway, che è un'altra importantissima azienda nata di recente, tra l'altro vi spiego adesso perché, canadese che gestisce 32.000 km di ferroviaria in Canada, Messico e Stati Uniti. È nata, come dicevo poco fa, nel 2023 fra la fusione di Canadian Pacific Railway, canadese, e Kansas City Southern degli Stati Uniti d'America. È oltre a circa 20.000 dipendenti e ha scostato la sua sede principale Global a Calgary, la sua sede principale degli Stati Uniti a Kansas City e la sua sede centrale del Messico, la città del Messico e Monterey. Fusione commerciale che è stata utilissima a Kansas City, dati ai volumi cruciali ma molto bassi che aveva questa azienda ferroviaria. Negli ultimi 20 anni il complesso, prima dell'unione di queste due aziende, ha realizzato un cargo di casi il 15% su base anno. Per cui andiamo a vedere i dati approfonditi. Ed eccoci qui a schermo dove andrò a fare una mini comparazione fra le 5 aziende di cui abbiamo anticipato alcuni dettagli poco fa, proprio perché poi ognuno deve andare a cercare di capire quello che sia il giusto investimento per se stesso. Ovviamente se poi volete un approfondimento specifico su una di queste aziende o su più di una, fatemelo sapere nei commenti qui sotto e che ovviamente lo faccio con molto piacere. Partiamo dalla Market Cap, la più grande ovviamente è Union Pacific Corporation, un'azienda della quale ho parlato di un video dedicato un annetto fa, anche più di un annetto fa, quando l'avevo la prima volta giunta al portafoglio, proprio perché avevo detto all'epoca che avevo investito circa 30 miliardi di dollari, se non ricordo male, per l'implementazione e la modernizzazione della propria rete ferroviaria. In termini di numero di dipendenti, anche questa è la più grande, 31.471 dipendenti, però una cosa che torna molto all'occhio è che la neonata Canadian Pacific Kansas Limited ha 13 mili dipendenti e gestisce più o meno la metà dell'interest price value e della Market Cap, di quello che è appunto Union Pacific. Andiamo a vedere quello che è il press ritorno negli ultimi 10 anni per queste aziende, a comparazione, e vediamo che quella che ha reso di più è la CSX con un 302%, la seconda invece è la Canadian Pacific Kansas Limited, che ovviamente però è l'unione delle due aziende che prima ne esistevano prima, per cui Canadian Pacific Company e Kansas City. Però diciamo che il rendimento su base anno è quello che poco meno ci interessa, perché quello che interessa a noi è andare a valutare quello che è la qualità dell'azienda e per cui quello che ci potrebbe dare nel futuro. Andiamo a vedere quello che è il fatturato, il total revenue, e in questo caso ovviamente la grandezza dell'azienda, l'Union Pacific, è quella che fa la differenza, come possiamo vedere da questo grafico, dove ha fatturato 25 miliardi di dollari. Quella che ha fatturato meno è appunto CP, la neonata Kansas City Railway Company. Sono aziende tutte di ottima qualità a mio parere, però andiamo a vedere anche altri dettagli. Quello che è il net income in questo caso, come vedete si muovono tutti nello stesso modo, essendo il settore lo stesso, però come net income abbiamo un 7 miliardi per Union Pacific, che continua ad essere quella che un po' va a trainare il settore. Andiamo a vedere quello che è il ritorno on equity per queste aziende, anche in questo caso Union Pacific è quella che rende meglio, seguita poi dalle altre, mentre la neonata, Canadian Pacific, Kansas City, è quella che ovviamente rende meno, perché appunto essendo neonata dalla fusione di queste due aziende, è quella che in questo momento sta andando a performare peggio. Per quanto riguarda il ritorno sugli asset, vediamo che in questo caso sono più o meno tutti sulla stessa barca, a parte NSC e NCP, che sono quelle che un po' si distaccano dalla media dei settori, mentre le altre tre, quindi Canadian, Railway Company, Union Pacific e SX Corporation, sono più o meno tutte intorno al 10%. In questo caso abbiamo una differenza sostanziale per quanto riguarda invece gli asset totali. Come possiamo vedere Union Pacific è quella ancora più grande in termini di asset posseduti, mentre CP, per cui la Canadian Pacific Council Limited, da quando è nata la fusione, da quando è stata prospettata la fusione, ha avuto un'impennata di quelli che sono i propri asset. Ovviamente la fusione si è andata a contestualizzare nel 2023, ma il processo di merging era iniziato un po' di tempo fa. Visto che noi siamo investitori da dividendi, andiamo a vedere un attimino il discorso dividendi. Come possiamo vedere nella prima schermata, possiamo vedere che Union Pacific è quella col dividendo più alto, sia in termini forward che in termini di trailing. Mons è anche per quanto riguarda la media negli ultimi 4 anni. Abbiamo anche il valore del dividendo e il payout ratio. Diciamo che Union Pacific è quella che ha un payout ratio più grande ma ampiamente sostenibile visto che si ferma sotto il 47%. Invece una cosa che deve saltare molto all'occhio è quello che è stata la crescita del dividendo negli ultimi 3 anni e negli ultimi 5 anni. Infatti per quanto possiamo vedere la crescita del dividendo negli ultimi 3 anni, per quanto riguarda Canadian Railway il 22.40%, mentre Norfolk ha l'11.27%, e la nostra Union Pacific si ferma al 10%. Se però invece andiamo a guardare gli ultimi 5 anni vediamo che le cose si stabilizzano un po' di più e seppur Norfolk è al primo posto vediamo che Union Pacific è al secondo posto con un 13,75%. Diciamo che comunque in termini di aumento di dividendo sono aziende che vanno ad aumentare il dividendo abbastanza di continuo. Ovviamente la nuovissima nata Canadian Pacific and Kansas City ha 0 anni di aumento di dividendo perché essendo nata adesso, insomma nel 2023 non poteva fare altrimenti. Però abbiamo uno storico per tutte le aziende di aumento di dividendo. In termini di dividend safety sono tutte ampiamente sicuri come dividendo abbiamo visto il payout ratio, abbiamo visto che le aziende tendono ad aumentare il dividendo per cui abbiamo un discorso abbastanza solido da questo punto di vista per chi come me ha interesse appunto nei dividendi. Possiamo vedere anche qui un prospetto riassuntivo della crescita delle aziende, abbiamo un fatturato che è in aumento per tutte le aziende, quella che cresce di meno è Union Pacific mentre le altre hanno tutte quante un aumento consistente però sono tutti aumenti a doppia cifra year to year. Per quanto riguarda il fatturato negli ultimi 5 anni invece vediamo che le cose sono più o meno stabili con dei picchi della neonata Canadian Pacific and Kansas City e la Canadian Company mentre le altre sono un po' più in basso. In termini di profittabilità abbiamo un gross profit margin del 53% per Union Pacific, 50% per CSX, Norfolk con 47%, CNI del 57% quasi e CP del 55%. Aziende che comunque hanno un ottimo margine lordo. Quello che fa perdere il margine lordo e quindi al marginetto un po' più striminzito ovviamente il fatto che queste aziende devono fare una forte manutenzione sulle linee ferroviarie che sono di proprietà. Comunque abbiamo dei ritorni sugli asset in linea quasi per tutte le aziende che variano fra il 10% e il 9% e l'11% con l'unica Kansas City che sta ferma al 4%. Stesso discorso si può fare per il return on equity con le varie aziende che hanno tutti i ritorni fra il 23% e il 33% con picchi negativo di CP e ONP che invece è un picco in positivo quasi del 58%. Qui abbiamo le performance ma come dicevo poco fa sono cose da guardare poco. Quello che bisogna guardare è quello che l'azienda mette nel piatto per la crescita futura e non quello che è successo in passato. Anche se un'azienda che è stata gestita bene in passato molto probabilmente con lo stesso management andrà a essere gestita bene in futuro. Performance passate non sono indicatori delle performance future. Per quanto riguarda i rischi sono aziende poco rischiose in linea di massima qualcuno un po' di più, altre non hanno parametri valutabili però possiamo vedere qui che comunque i short interest sono abbastanza bassi. Qui possiamo vedere anche quello che è il net income rispetto alla revenue per cui abbiamo delle revenue di 25 miliardi per quanto riguarda l'Union Pacific, CSX 15, Norfolk 12, CNI 13 miliardi, SCP quasi 7 miliardi con un net income di 7 miliardi per quanto riguarda Union Pacific, Railway e le altre che ballano fra i 4 miliardi e i 2 miliardi e 7, quasi 3 miliardi di Kansas City. Tutte aziende con una cassa piuttosto importante, ovviamente le due più grosse Union Pacific e CSX hanno la cassa più che la grossa, Union Pacific un miliardo circa, CSX quasi un miliardo e mezzo, mentre le altre ballano fra i 214 milioni di dollari e i 550 milioni di dollari di Norfolk. Debiti ovviamente alti, dicevo quelli di Union Pacific sono alti perché appunto ha fatto quel grosso investimento nel 2021 se non ricordo male, mentre le altre hanno tutto un debito più o meno stabile che va fra i 18 miliardi e i 12 miliardi di dollari. Ricordiamoci che questi non sono così a investire o non investire in questo e in quell'altra azienda ma sono spunti per scopo didattico e di approfondimento, però in ogni caso se questo contenuto ha portato un valore aggiuntivo alla tua conoscenza, fammelo capire con un bel pollicione in su. Se invece mi hai appena conosciuto potrebbe essere una buona, anzi un'ottima idea, cominciare a far parte di questa community con una maggiore presenza, la tua, iscrivendoti al canale e cliccando la campanella delle notifiche. Anche per oggi è tutto, ti saluto e ci vediamo al prossimo video. A presto!